non è che un attore disciplinato un attore obbediente eccetera è uno che fa tutto quello che gli chiede regista appunto perché è impossibile fare tutto quello che richiede regista disponibile un attore veramente in gamba è uno che si fa la violenza di entrare dentro il modo di pensare di regista di volerlo capire non di volerlo soddisfare c'è una differenza enorme tra cercare di capire il regista e il soddisfare il regista il regista è impossibile da soddisfare ma è possibile da capire facendo l'esperienza della regia da un lato e del recitare da un lato dall'altro lato fai l'esperienza della disponibilità della domanda di disponibilità che fa un regista e dall'altro lato della domanda della richiesta forte in realtà di disponibilità che fa un attore perché un attore vuole soltanto essere amato non ne frega un cazzo d'altro di niente proprio in assoluto prima dal regista poi dalla clientela sperando che essere amato dal regista sia un tramite per essere amato dalla clientela ma non c'è niente di male voglio dire qualunque essere umano non vuole altro che essere amato però alcuni esseri umani hanno anche altri interessi il punto di vista non è l'argomento adesso noi siamo abbastanza tiraneggiati dalla dittatura del soggetto e neanche del soggetto almeno è la plotizzato del tema una posizione estetica non è da che parte stai non è chi ha ragione chi ha torto da dove scegli di guardare una storia se tu decidi di raccontare una storia decidi di raccontare una storia per il fatto che hai deciso di porti in una determinata posizione rispetto a quella storia cioè quello che a me interessa e quello di cui sento tantissimo la mancanza è la posizione estetica dove sei tu rispetto a una storia il mio punto di vista è rappresentativo delle mille cose che possono frullare dentro un essere umano io colgo il suo comportamento io non parlo mai di me io sono abbastanza in pace rispetto alla messa in scena dei fatti miei laddove riesco a trovare un punto di vista rispetto al quale io credo ciecamente che parli di tutti ovviamente che questo particolare apre al generale io non sono ovviamente nato con un gusto sono nato con una sensibilità che poi ho esplorato poi mi è capitato di fare degli incontri per lo più casuali alcuni mi hanno commosso e quindi hanno formato il mio gusto e altri mi hanno indignato e quindi hanno formato il mio gusto ancora di più cerco di imparare dal pubblico però io non posso in realtà onestamente immaginare uno spettatore diverso da me mi piacciono i deboli mi piace tantissimo la debolezza era addirittura un titolo che avevamo pensato per il nostro film che poi si è andato a intitolare Texas pensavamo che si potesse intitolare i deboli mi sembrava un titolo abbastanza Dostoevsky hanno ovviamente qualunque persona sana di mente diceva sì certo i deboli però naturalmente mi affascina tantissimo la debolezza c'è un motivo morale dietro questo motivo sintetico però lì si fondono i forti si raccontano da soli sono i deboli che hanno bisogno di qualcuno che di mestiere vada a raccontare le storie delle persone